Dove trovare evoluzione etere, origine perduta e buona parte delle bustine più ricercate dell'era spada e scudo. Ho fatto una ricerca e questi sono i 10 box con ancora bustine spada e scudo a prezzo decente. Ragazzi andremo dal box più costoso, quindi le bustine prese al singolo al prezzo più alto, fino al best buy in assoluto. Ovviamente useremo la piattaforma che tutti possono utilizzare e conoscono, Amazon. Ci tengo a precisare che nessuno si ha pagato in questo video, non collaboriamo con nessuno, quindi vi potete fidare di noi e potete acquistare, se siete più esperti, anche su altri siti che costano decisamente meno. Però prendiamo ad esempio Amazon. Il primo box è proprio questo qui che state vedendo in questo momento. È un fantastico box Reshiram e Charizard GX con una carta promozionale normale e una jumbo. Ha all'interno ben 10 bustine, 5 regno glaciale, 3 evoluzioni terre e 2 voltaggio sfolgorante. È già 3 evoluzioni terre ragazzi qui. Il prezzo è un po' altino come potete vedere, però vi ripeto, potete guardare su altri siti, è disponibile e vi assicuro che si trova a un prezzo anche più basso. 195 euro per 10 bustine sono 19,50 euro a bustina. Secondo prodotto, lo vedete proprio qui, stiamo parlando del tantissimo discriminato UPC di Charizard che in realtà ragazzi riserva ben 16 bustine. 3 lucentezza siderale, 2 origine perduta, 3 astri lucenti, 3 colpo fusione, 1 fiamme oscure, 1 voltaggio sfolgorante e aprite le orecchie, 3 evoluzioni etere. Per un prezzo di 160 euro, ma ragazzi vi assicuro che si trovano ancora a meno, penso che sia un ottimo prodotto dato che stiamo parlando di 16 bustine a 160, quindi 10 euro a bustina. Ovviamente ragazzi ci tengo a dire che i prodotti variano tra l'italiano e l'inglese, lì varia dalla vostra disponibilità, ma più o meno le bustine sono quelle, il numero totale è sempre quello. Terzo box, all'ottavo posto, anche questo lo abbiamo sempre snobbato, però intanto ha 5 bustine molto interessanti. 2 origine perdute, 1 colpo fusione, 1 lucentezza e 1 ast... mi sono impapinato... aspetta. 2 astri lucenti, 1 fiamme oscure, 1 colpo fusione e uno stile di lotta, che per 9 euro e 89 a bustina non è niente male, cioè 49 euro e 46, tutto il box. E al settimo posto, lo avete già visto sul nostro canale, in una cantina trovato Sealed, abbiamo proprio Dragonite V, lo vedete qui, è un box pazzesco, con dentro ben 4 bustine super interessanti, un evoluzione etere, un sintonia mentale dell'era sole e luna, questo è un plus ragazzi, e 2 voltaggio sfolgorante. Per il prezzo di 39,20, cioè 9 euro e 80 a bustina, io direi che non è niente male. Sesto posto, Deoxys, V-Max e V-Star Box. 4 bustine, 2 origine perduta, 2 regno glaciale. Per il prezzo di 38,72, cioè 9 euro e 68 a bustina, niente male anche qui. Stiamo andando piano piano a calare, quindi lascia like e commenta, perché solo i teori ti portano un format così pazzesco per farti risparmiare per i tuoi acquisti Pokémon. Al quinto posto abbiamo questo box che vedete, cioè Pikachu V-Box. Semplice, 4 bustine, così schiette, però prima di elencarvi le bustine ci tengo a dire che, vi ripeto, potete comprarlo anche non su Amazon, perché questo è un sito alla portata di tutti, ma c'è benissimo, lo sapete, Fantasia Store, Car Market, Car Game Corner, tutto, qualsiasi cosa. Quindi ragazzi, questo è solo perché è alla portata di tutti. E vi ricordo che le lingue in questo momento non le teniamo conto, perché le bustine alla fine sono quelle, magari cambia qualcosina. Questo box, al prezzo di 36,99€, offre ben 4 bustine, 2 colpo fusione e 2 lastri lucenti. Il prezzo ve l'ho già detto, ma quanto viene a bustina? 9,24€, si merita il quinto posto. Ma voi sapete dove trovare questi articoli Pokémon a prezzo migliore o anche articoli ancora più interessanti? Commenta e lascia like! Quarto posto di questa incredibile classifica, al prezzo di 51,85€, abbiamo Palchia originale V-Star, con 6 bustine, 2 origine perduta, 2 colpo fusione e 2 lucentezza. Per 8,64€ a bustina, io direi che qui stiamo alzando veramente tanto l'asticella, qui iniziamo ad entrare a prezzi best buy. Al terzo posto abbiamo un box estremamente simile a quello del quarto, ma a prezzo ancora migliore. Abbiamo lo Zoroark V-Star di Zui. Qui abbiamo sempre 5 bustine diverse da quelle di prima, 2 origine perduta, un lucentezza siderale, un colpo fusione e un astri lucenti. Per il prezzo di 8,14€ a bustina, cioè 42,07€ tutto il box. E qui stiamo parlando delle bustine ragazzi, ma ovviamente comprende il box anche le carte singole, cioè le Full Art, le V-Star e quant'altro, e le Jumbo, che comunque un minimo di valore ce l'hanno. Però noi vi diamo il prezzo a bustina. Per sapere il secondo posto, devi lasciare like, iscriverti al canale e commentare con Toroig, siete mitici. Con solo 29,20€ per 4 bustine, al secondo posto abbiamo V-Resion V-Box. Un box che inizialmente nessuno voleva, ma adesso non è per niente male. 2 origine perduta, 1 stile di lotta e un astri lucenti creano un box a questo prezzo che è da afferrare subito. E il Best Buy è garantito per solo 7,30€ a bustina. Commenta secondo te quale box sarà al primo posto. E il Best Buy è proprio lui. Al primo posto, Cleaver V-Star. 5 bustine, 2 lucentezza, 1 astri lucenti e 2 colpo fusione completano l'armonia perfetta a solo 35,05€. Cioè significa 5,84€ a bustina. Un affare da non farsi scappare. Ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti!